Buongiorno, grazie a tutti voi, grazie al Presidente Marazzini di essere qui con noi, grazie al Reverendo Rettore Carlo Nanni, cari colleghi, cari amici, grazie a tutti i relatori presenti a questo tavolo e a tutti gli invitati che hanno voluto essere oggi con noi. In particolar modo permettetemi di ringraziare la RAI che ha partecipato in maniera corale all'organizzazione di questo seminario. La comunità radio televisiva italofona è parte della RAI e nasce per volere della RAI. Fu costituita nel 1985 proprio grazie a due storici dirigenti della nostra azienda, Biagio Agnes e Sergio Zavoli, che hanno gettato le basi di questa comunità con profonda intelligenza e grande lungimiranza, insieme ai colleghi della radiotelevisione svizzera di lingua italiana, della radiotelevisione co per Capodistria, della radiotelevisione di San Marino e di Radio Vaticana. Oltre ai nostri fondatori è con noi la Radio Croata, Radio Pole, Radio Fiume, la Radio Rumena, la radiotelevisione albanese e quella maltese. Radio Tunisi, che è un canale di trasmissione nella nostra lingua, Radio Colonia, che trasmette in italiano dalla WDR in Germania e abbiamo poi amici, istituzioni, dall'Accademia della Crusca, che ci onora della sua presenza, all'Istituto Statale per Sordi, all'Università per Stranieri di Siena e a tutte le università, le istituzioni che collaborano con noi e con cui noi con molto piacere e orgoglio collaboriamo. E non è un caso che ci si chiami comunità. Abbiamo scelto questo nome perché vogliamo essere un'associazione che unisce, un'associazione che fa rete, un'associazione a disposizione dell'italofonia. Lavorare insieme, comunicare le esperienze, le passioni e le competenze e le emozioni ha creato un clima di rispetto e comprensione, sia tra le persone che tra le nostre emittenti, una rete di rapporti che ci permette di realizzare al meglio il nostro lavoro. Vorremmo essere, attraverso i media, un ponte tra l'Italia e chi parla italiano all'estero, con iniziative pensate da RAI insieme alle altre emittenti straniere, cercando di raggiungere non solo le nostre comunità di italiani all'estero, ma tutti quelli che gli italiani lo parlano e lo amano. Nello scorso mese di ottobre si sono tenuti gli stati generali della lingua italiana. Nel corso di due giorni di confronto sono emerse molte idee proposte per esprimerne al meglio le grandi potenzialità. L'italiano gode di sana vita, si è detta a Firenze, è la quarta lingua studiata nel mondo. Sono ottime notizie che devono inorgoglirci. Ma dall'Europa, o meglio dai nostri confini, non arrivano informazioni altrettanto positive. E proprio l'indagine sulla salute della lingua italiana, sulle nostre frontiere, è stato quest'anno il tema centrale dei lavori della comunità radio-televisiva italofone. Qual è lo stato della nostra lingua nelle zone di confine, nel luogo del congiungimento con l'altro? Un confine che oggi troviamo anche all'interno delle nostre realtà, che sono sempre più multiculturali, più multilinguistiche, più complesse da gestire in termini di relazione anche dei valori linguistici. Abbiamo realizzato tre incontri, l'italiano sulla frontiera d'Oltralpe, sulla frontiera est-ovest e nel Mediterraneo. Il primo si è tenuto a maggio in Svizzera, dove la nostra lingua, come forse sapete, deve far fronte a non pochi problemi. A conclusione è stata presentata la risoluzione di Basilea, con una serie di proposte per una governanza dell'italiano di fronte alle sfide esterne. Vi si legge, la sfida della globalità rappresenta per l'italiano un'opportunità per rilanciarsi, scrollandosi di dosso il complesso dell'inferiorità numerica. Di fronte ai processi di globalizzazione, tutte le lingue nazionali sono minoritarie. Il convegno a Capodistria in Slovenia nel giugno scorso è stata occasione importante per valutare la situazione dell'italiano in tutte le realtà più frammentate dell'entroterra istriano e della Croazia, dove l'italiano è presente, ma ha grandi difficoltà anche lì. L'incontro è stato arricchito dalla presenza di Monio Vadia, un grande artista, che ci ha parlato in maniera intelligente, giocosa e anche molto, molto, molto seria, di cosa vuol dire vivere in italiano sul crinale delle differenze. Per finire, eccoci qua. Grazie a tutti voi oggi per il nostro incontro sull'italiano ponte tra le culture nel Mediterraneo. Papa Francesco, che è stato già citato, una delle personalità più carismatiche del nostro tempo, che italiano non è, parla in italiano in occasioni ufficiali, soprattutto nel Mediterraneo. L'ha fatto a Gerusalemme, parlando ad arabi ed israeliani. L'ha fatto ad Istanbul, in un discorso in cui ha voluto sottolineare che la convivenza tra musulmani e ebrei cristiani deve poggiare sugli stessi diritti e doveri. E come è stato prima citato durante l'anniversario della caduta del muro di Berlino, ha detto, perché si diffonda sempre più la cultura dell'incontro, capace di far cadere tutti i muri che ancora dividono il mondo. Ecco l'essenziale, dove c'è un muro c'è chiusura di cuori. Servono ponti e non muri. Ecco, queste sono le parole che abbiamo fatto nostre per parlare dell'italiano nel Mediterraneo, ponte di comprensione e di dialogo in un mondo che sappiamo complesso e spesso attraversato da dinamiche contrastanti. L'obiettivo è riuscire ad individuare dei percorsi e di permettere alla lingua di farsi veicolo di dialogo reciproco. D'altronde la nostra lingua è presente da secoli nel Mediterraneo e poi ne parleremo più nel prossimo panel e ancora domani con tanti ospiti che interverranno. Lingua franca nel X secolo negli ambiti marittimi e mercantili, negli atti dei capitoli generali dell'ordine di San Giovanni redatti a Rodi intorno al 1500, si trovano allegati in italiano. Dopo che gli ottomani scacciarono l'ordine da Rodi, i cavalieri si trasferirono a Malta e adottarono l'italiano come lingua ufficiale, e qui i nostri amici maltesi sapranno meglio di altri spiegarci e raccontarci. Nel ricchissimo archivio dell'ordine alla Valletta, la maggior parte dei manoscritti e dei libri strampati tra il XVII e il XVIII secolo sono in lingua italiana. Nel tardo 500 e nel 600, quando Tunisi era parte dell'impero ottomano, i funzionari turchi, arabi e berberi discutevano e redigevano trattati e accordi con i funzionari francesi in lingua italiana. Nel 700 in Turchia l'italiano faceva da lingua intermediaria tra il russo e il turco, e in Egitto l'italiano fu lingua ufficiale dell'amministrazione fino al 1876. E nella prima metà del 900 in Tunisia, in Egitto, in Marocco, gli italiani diedero vita a varie attività culturali, promossero la pubblicazione di giornali e libri, crearono scuole. La perdita dell'uso dell'italiano nei paesi mediterranei è stata chiamata l'italiano sommerso, perché il ruolo dell'italiano nel Mediterraneo si è trasformato radicalmente e drasticamente. Ed eccoci qui tornati al nostro tema iniziale. L'italiano può essere ancora un ponte tra le culture nel Mediterraneo? E qual è il ruolo dei media? Qual è il ruolo dei nostri servizi pubblici? Di questo vogliamo discutere in questo incontro insieme ai nostri ospiti che arrivano da tanti paesi della sponda nord e sud del Mediterraneo. L'italiano non come lingua superata dalla potenza omologante della globalizzazione o espressione di un mondo in via di estinzione che appassiona solo nostalgici, ma come una lingua ricca e attuale che deve trovare nuove idee per il suo rilancio. L'italiano come lingua condivisa e valore condiviso. Questi sono i cardini intorno ai quali rinforzare il nostro impegno per una comunità di talofoni, basata sì sull'italianità, sulla moda, sul cibo, sulla lirica, sulle città d'arte, ma anche come espressione di una capacità di fare rete e di creare nuove prossimità per dimostrare concretamente che la nostra lingua è un tesoro dell'umanità e un patrimonio che può generare anche grandi opportunità per il futuro. Grazie 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 a tutti.